Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti al mio canale, io sono Magnus e nell'ultimo episodio abbiamo forse scoperto un nuovo attaccante che potrebbe far concorrenza a Pellegri siamo sempre qui su FIFA 19, carriera allenatore Perugia, non lo sperimenteremo sicuramente in questa partita, magari al massimo lo mettiamo in panchina visto che dobbiamo giocare contro il Milan che è la prima in classifica con 48 punti e noi siamo a 44 quindi potrebbe essere una buona opportunità per avvicinarci naturalmente come al salito non vi dico questa volta di spolliciare, di fare cose eccetera perché sta serie piace a pochi, forse la sto portando per 3 o 4 di voi visto che sono gli unici che mi supportano, almeno per questa serie detto questo, allora la formazione dovrebbe essere sempre la stessa e sì, io direi di iniziare subito a metterci in campo fare qualche cambiamento per ciò che vado alla maglia e questa dovrebbe essere quella più precisa allora io mi trovo bene così, giustamente vorrei fare una cosa perché bianchimano vi dico la verità è uno che si può buttare in aria perché è molto alto e quindi poi Gasperoni lo mettiamo al posto di sgarbi, visto che ormai è inutile che non li facciamo veramente più giocare l'altro difensione perché li abbiamo già belli tutti quanti carichi ok, oh c'è la lebbia, non so se ci conviene più che altro che attuare una tattica tipo di attesa o provare già subito ad attaccare la porta, vabbè noi vedremo come sistema la cosa, bravissimo, ok ragazzi attenzione guardalo, oh aspriglia ragazzi, lo vedo, lo vedo galvanizzando non c'è nessuno, oh guardalo, guardalo guarda sopra Annenberg, vai vai bello, vai, portati sta balla, vai no, vi do più forte la prossima volta, vi do più forte me l'ero spostata bene, puoi sul piede tuo e poi dopo niente da fare però questo è fallo, no? mi hanno trattenuto con la maglietta hanno tolto le mutande a Vido, attenzione non ci facciamo fregate siamo anche bra... ah c'hanno anche Fabregas bravo, è mia, è mia oh, che fai, non vogliamo andare mamma mia bastoni, bastoni c'è il cartellino, veramente fai ah, ecco ma infatti l'abbiamo sfiorato l'abbiamo sfiorato eh sì, è che ma tu portiere è tuo, eh, bravo portiere ok bravo ok vai a sfriglia, vai devi andare, devi andare, devi andare è angolo, è angolo, eh angolissimo dai, rubiamoci sta partita chance 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 vabbè arbitro, ha visto, si è messa anche in mezzo stavamo segnando che peccato che sui calcità angola non siamo molto forti però 0-0 ce la stiamo giocando sfruttiamo poco le fasce però vabbè, non fa niente io direi di giocarci sempre bene questa partita con i migliori in campo e aspetta che mo ti facciamo subito un bellissimo goal in che senso, iniziamo a offendere ok ok ma porca miseria allora uh, non c'è nessuno in mezzo non l'ha subito dietro, non l'ha subito dietro non ti fa togliere e mani e fa bucare mani però e fallo eh allora io Vito mamma mia no dai questa è sfortuna proprio permettami un po' più al sicuro non è passata scusami Vito a dei nessuno attenzione no che cavolo ha fatto non lo so parca miseria abbiamo rischiato tanto qua eh abbiamo rischiato tanto dai vediamo di vincere a sta partita non così mamma mia mamma mia Tonali sta proprio per terra Matteo quanto manca ancora da giocare 60 secondi al novantesimo Piero ultimo giro di lancette dai grazie Matteo dai a spiglia vai vattene in porta vai segnala due minuti di recupero dalla Tonali Bianchimano no no perché Vito porca di quella miseria non attacchi sta cavolo di porta 0 a 0 abbiamo avuto qualche occasione loro l'hanno avuta anche loro ma sempre 0 a 0 andate a finire vabbè dai non fa niente speravo di riuscire a rosicchiare qualche punto e invece niente dobbiamo vedere un pochettino gli altri che cosa hanno fatto perché in base a questo riusciamo a capire a che punto siamo vabbè apri 48 vabbè stiamo comunque tutti quanti là che per un gioco 45 sì vabbè fortunata a parte Juventus è ancora per giocare ok simuliamo tutto vediamo di far salire i nostri giocatorini certo Gasperone ha preso D mamma di tonali vabbè tonali l'ha voluto fare un pochettino migliorare anche per ciò che riguarda il tiro dalla distanza in maniera tale deve farlo rendere un pochettino più qualificato allora faremo sicuramente qualche cambio osservatore osservatore ormai pensiamo abbastanza bene aggiornamento mezzo di osservatore e noi siamo messi abbastanza bene ci manca giusto qualche calciatura veramente tanto forte e non lo becchiamo sicuramente conferenza stampa no allora vediamo non so neanche con chi giochiamo la prossima partita però sicuramente farò qualche cambio conferenza stampa basta con lo si ok pensavo che c'erano con l'udinese con l'udinese dobbiamo vincere quindi vediamo di giocare bene allora i cambi che volevo fare erano aspetta così la dai bianca ecco grazie allora mettiamo sicuramente Gasperoni lo voglio mettere in campo perché mi sta piacendo il ragazzo sta giocando bene e poi ci mettiamo anche facciamo cambiare un pochettino metterei a posto del terzino destro volevo mettere visto che ci chiede sempre di giocare Mazzocchi Mazzocchi ti facciamo giocare così vediamo un pochettino come te la cavi ok e facciamo di passare un po' Nuremberg vai ok video mi raccomando video di sbloccarti lo so che sei triste per la fantastica punizione dell'altra volta però credo che questo possa essere il momento per iniziare una grande crescita allora cerchiamo di ecco qua bravo ma non è fallo dai come fa ad essere fallo cioè si è si è leggerissimamente appoggiato vai la spiglia sta in fuori gioco grande vai 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 niente da fare della tonale eeeh se domani messaggini ma quale fallo non riusciamo a penetrare naturalmente abbiamo sempre le solite squadrette che si chiudono tremendamente che poi non perché la palla così dai che tonali tonali oh ma Gabriel è forte c'è incredibile noi dobbiamo fare 50 azioni e poi loro no proprio perché mi fate marchiare proprio quello che deve staccare dal dal tuffo eh bravo dai vai bravissimo si te pariva sempre ste palle ma l'avevo presa no casi ci sei no raga perché voi vedi gli interventi noi li facciamo bravo pellegrini vai ecco bravo facciamo fare tutto a pellegrini vai perché cioè un passaggio così in profondità me lo devi dare più lento perché mi devi dare una fucilata ogni volta questo non sa stoppare la palla dai qualcuno che attacca la porta in mezzo niente niente la fa non c'è proprio non c'è proprio ah forza scendiamo forza incrocia mamma mia meno male bravo Gasperoni abbiamo fatto una bella azione grazie al dribbling di Vido vediamo se la riusciamo a recuperare dai il tempo ci sta l'importante è che ci mettiamo un po' di impegno dobbiamo veramente crederci e avere assolutamente un po' di fortuna vabbè che gli facciamo fare a questo tutto il campo gli abbiamo fatto fare allora adesso sta giocando veramente male quindi facciamo facciamo così allora Gasperoni e ci mettiamo anche a Dragomid e poi metto a Pellegri a posto di Russ vai vediamo se la riusciamo a recuperare c'è nessuno che va contro il giocatore vabbè dai dai Pellegri dai sei pure fresco dai che sei pure fresco mamma mia qualcuno che si va a vedere mamma mia ragazzi 40 ha fatto perlomeno 60 metri palla al piede tantissima vittoria mamma mia ragazzi che ha fatto ha fatto 60 metri palla al piede penso di sì perché qua sicuramente avremo tanta pressione quindi allarghiamo giù bravo venite a beccare questa palla ok bravo vai Tonali vai allora poi un domani mi fai capire perché hai fatto questo passaggio io la do a portire bravo bravo bellissima ok vittoria bella partita eh abbiamo ci abbiamo creduto fino alla fine e ce la siamo un po' rubata questo è vero però sono contento perché Pellegri avete visto un'invada tremenda il Milano ha perso perché paletta ragazzi cioè ci ha rotto le palle a noi e poi ha perso con la chiesa con la chiesa solo chi era comunque la Juventus è prima e il Napoli ancora deve giocare vabbè siamo a 48 ci siamo avvicinati dobbiamo vedere solamente che cosa faranno gli altri giocatori vabbè dedichiamoci comunque alla crescita ho dato possibilità anche a Pellegri perché giustamente dai si è fatta una bella partita prima premiamolo un pochettino gran bel goal complimenti avanziamo non so sicuramente come siamo messi questa dovremmo ci abbiamo due partite vicino aspetta andate un attimo perché non so che ci abbiamo calendario abbiamo Benevento e Roma ok e quindi partite molto vicino no è sempre campionato quindi facciamo un bel turnover col Benevento cercando di giocare bene perché la Roma penso sarà più forte il turnover lo facciamo così no mettiamoci con la maletta rossa allora gli diamo quella bianca allora sicuramente facciamo giocare Dragomir che prima non ha giocato mettiamo sicuramente Mustacchietto mettiamo anche Chiano al posto di Kresic mettiamo Gronenberg poi al posto di Pellegri vorremmo mettere Falasco ok non voglio fare tanti cambi eh Vido dai facciamo così Pellegri ti metto al posto di Vido ok questa palla la dobbiamo cioè la partita la dobbiamo assolutamente vincere attenzione no eh sì domani chi è non ce la farà mai è vero che è veloce però mo ne esageriamo mamma mia che errore che hai fatto che cavolo di errore ma porca misera porca misera dai Mattia oh c'era quasi uscito ok vabbè sempre a metà eh che ve lo dico a fare l'avevamo capito abbiamo beccato la palla però alla fine c'è incredibile il Benevento ci sta mettendo sotto oh oh ma che ha fatto c'è io spazzo no troppo male sono tutti quanti a difesa vedi come si fanno così si vai che buono vai che buono se riusciamo a meno a fare un gollo forse ce la facciamo vai vai che te la do in mezzo c'è nessuno in mezzo non c'è nessuno in mezzo errori sempre errori il problema è che se se riuscissimo a giocare un pochettino meglio tipo con passaggi un pochettino meglio secondo me sarebbe sicuramente vabbè abbiamo avuto culo per una volta ok vabbè non avrei mai potuto segnare là perché tanto quello lo sapete niente da fare tira niente da fare dragomir ma dragomir non sei male a tirare perché hai fatto questo brutto tiroso aspetta no guarda ma non è possibile che pure dragomir mi sbagliasse palle tonali che sbaglia la palla sbagliamo tutti quanti cioè riusciamo a fare niente c'è incredibile che ecco ma dai ma lo devi dare a quello la palla ma che cavolo fai mamma mia stanno giocando mamma mia ragazzi io sì passaggio boom veramente mettiamo in campo la primavera perché cioè mi giocate veramente male così ma da qua dai un gol lo possiamo fare se no niente si è fatto anticipare raga si è fatto anticipare mamma mia bene 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 da Champions proprio da Champions non ci ha fatto toccare una palla abbiamo fatto errori con la palla praticamente peccato perché secondo me potevamo migliorare sicuramente di più però visto che il Napoli pure ha vinto vabbè diciamo che non so se riusciremo a mantenere perlomeno il terzo posto o quarto posto quarto posto sicuramente però dobbiamo un pochettino vedere visto che gli altri hanno preso un pochettino la fuga ok ragazzi anche questa parte termina qui naturalmente come ho fatto un video possiamo mettere un bel commento un bel mi piace ci vediamo al prossimo video bye